Il Pescara ha porte girevoli. Chi va via fa spazio a chi viene o dovrebbe arrivare. L'esempio è quello che riguarda Juan Fernando Quintero e Aniello Cutolo. Il colombiano è in vacanza dopo il Mondiale Sub-20 con la sua nazionale e al ritorno dalle ferie non dovrebbe essere più un giocatore del Pescara. Questione di sfumature. Dall'azzurro delfino le righe verticali si tingeranno di una tonalità più forte. Saranno infatti i bianco-blu del porto a poter contare sul talento appena ventenne nato a Medellin. Ieri Quintero ha festeggiato il compleanno del compagno di nazionale James Rodriguez con cui ha giocato in patria all'Envigado e che al porto ha giocato fino a qualche settimana fa prima di passare al Monaco nel maxi affare João Moutinho. Chissà se Rodriguez gli ha parlato già dello stadio do Dragao e anche l'edizione online del sito specializzato portoghese a bola, molto attento alle questioni porto, non ha dubbi sul fatto che Quintero non può più sfuggire. 8 milioni di euro la base su cui si tratta, poi magari eventuali bonus, ma questa è un'altra storia. Perché per un Quintero con le valigie e un piede a mezzo già fuori, un cutolo che ha mezza maglia bianca-azzurra addosso. Accordo col giocatore che c'è da tempo, ora ci sono da limare gli ultimi dettagli col Padova. Da limare perché la società vorrebbe metterlo a disposizione di Pasquale Marino già per mercoledì mattina, quando partirà ufficialmente l'avventura 2013-2014. Destinazione Rivisondoli fino al 25 luglio. Tra i convocati ci sono anche gli ultimi arrivati, Padovanne, il portiere Pigliacelli, Piscitella, Politano, Zuparic e Viviani. Ma nel listone anche molti che non faranno parte del progetto del Delfino. Questione Valdifiori. Il procuratore Mario Giuffredi ha confermato che dopo l'incontro cordiale con Guglielmo Acri l'accordo è stato trovato in pochissimo tempo. Il centrocapista sarebbe felicissimo di vestire la maglia del Pescara. Il problema però è l'Empoli, società detentrice del cartellino. I toscani a fronte di una chiamata dalla Serie A lo lascerebbero partire senza problemi. Il nodo sta nel non voler rinforzare una diretta concorrente nel campionato cadetto. In settimana ci sarà un incontro ulteriore con l'Empoli per provare a convincere i toscani a cedere e regalare il centrocampista al tecnico. Mercato Lanciano. Ufficializzato il nome del nuovo tecnico Marco Baroni, che sarà presentato lunedì prossimo, si lavora ai fianchi della Juventus versione baby per ottenere i sì di alcuni elementi che Baroni porterebbe volentieri con sé in rosso-nero. Intanto per Nadir Minotti il più sembra fatto. Il biondo centrocampista di proprietà dell'Atalanta potrebbe aver lasciato Lanciano solo per qualche giorno, perché sembra pronto a tonarci immediatamente. Così come Fabrizio Paghera. Il centrocampista di proprietà del Brescia ha avuto altre richieste, ma lui preferisce tornare a Lanciano, dove ha disputato un buon campionato con 28 presenze e due reti. Grazie a tutti.